ciao amici discoteca passaparola udine 1998 con roby gorizia tv la seconda parte guardate passaparola guardate un po il servizio 98 97 98 comunque 98 guardate un po il stracolmo udine passaparola password esso si chiamava però adesso non so se è aperto ancora non so comunque questa era la discoteca dell'epoca guardate un po famosi dj eccoli qua salutiamo quell'altro dj che non mi ricordo il nome come lo ricordo lo filmavo tante di quelle volte vai roby guarda quanta gente 1998 guardate che roba e dove c'è l'influenza è il covi guardate guardate che movimento eccolo la vai coi baci guardate la terrazza la terrazza del password passo a parola udine viale venezia guardate venezia guardate che movimento e che movimento ragazzi e che movimento guardate guardate che movimento vai vai chissà le due circa no guardate guardate come si va in giro la ragazza la barrista guarda come che viaggia salutiamo il giovanotto allora siamo ecco qua il gioiello con i balcons del friuli guardate che movimento ragazzi passo a parola 1998 siamo in terrazza guardate qualche festa guardate che musica sopra guarda come si va in giro la terrazza guardate un po' guardate un po' il movimento la terrazza passo a parola guarda come si va in giro la terrazza guardate che roba che movimento alla faccia del covi guarda come si va in giro la terrazza guardate che roba guardate un po' adesso mai le bellezze fuga eccola qua i belli i belli di password i belli del passaparola guardate un po' ah che tempi ragazzi che tempi ecco il gioiello la su in cima e allora chiudiamo qua con la terrazza del password e sono le cinque chiudiamo il servizio nel pienone delle due ballerine qua guardate un po' chiudiamo qua che ci salutano e vai con la rossa chiudiamo chiudiamo eccola qua avete visto che festa 1998 con la discoteca passaparola oggi password che festa ragazzi chiudiamo